Di fronte alle nuove regole imposte dall'ultimo DPCM emanato dal Premier Conte, anche baristi e ristoratori a Pesaro stanno provando a reinventarsi. Resta salvo il pranzo della domenica, ma bar, pub, ristoranti, pizzerie e pasticcerie dovranno comunque chiudere alle 18.00 e così sarà fino al 24 novembre. Cercano di resistere gli operatori del settore, che proveranno ad intensificare maggiormente il servizio dell'asporto. Tra i più penalizzati i locali dell'aperitivo, alcuni hanno deciso di non chiudere e di anticipare il servizio dell'apericena con il pranzo. Menù a tema, cocktail originali, merende particolari per i più golosi. Insomma, esercenti che sfideranno la sorte e proveranno a ripartire così, nonostante le difficoltà. Torneremo a fare la pizza al piatto, consegnandola a casa o da asporto, chi vuole venire fino al bar a prendere l'asporto, entrando uno alla volta e cerchiamo di rinventarci una cosa che avevamo già fatto la prima volta del lockdown. Cioè noi tra tre ore cominciamo a fare le pulizie, è finita la giornata, gli incassi sono proprio a zero, pregando poi che non piova, perché se piove non aprono neanche. Non ci si può permettere di fermarsi, bisogna assolutamente reinventarsi. È difficile perché bisogna, nel nostro caso, essendo un'attività prettamente seriale, riragionare l'offerta, riragionare quello che possiamo offrire al cliente, perché il cliente poi deve sceglierci. Speriamo che la gente abbia voglia comunque ancora di uscire, sempre nel rispetto delle regole e ci siamo perché comunque il nostro lavoro è quello dell'ospitalità, è quello di comunque sì lavorare, ma anche di regalare momenti un po' più tranquilli alle persone. Faremo anche servizio d'asporto, lo faremo solo su prenotazione, punteremo sulla cosa che c'è sempre distinto, che sono i cocktail, e il discorso dell'aperitivo inteso come cena.